Venerdì prossimo a Vienna il Copra Elior conoscerà gli avversari che troverà sul proprio cammino iniziale di Champions League. Con Perugia, Macerata, i russi di Kazan, oltre a tre formazioni polacche, Zlatanov e Sochi saranno testa di serie della manifestazione. Prende dunque corpo la nuova stagione bianco-rossa, a dir la verità, ancora avvolta dal mistero. È prevista infatti per domani sera alle 21 l'attesissima riunione all'Auditorium Sant'Ilario, durante la quale il presidente Guido Molinaroli parlerà del futuro della società. Dopo le annunciate di missioni e il concreto rischio di sparizione della squadra piacentina dai radar del volley nazionale, i timori dei tifosi sono stati spazzati via dall'annuncio del reperimento di forze fresche che garantiranno il proseguio dell'attività. Nel frattempo si registra l'addio di Foxfei che torna a Macerata, dove l'ex centrale della nazionale ha mosso i primi passi in carriera. Con la lube ha firmato un biennale. E a proposito di firme, domattina dovrebbe essere il giorno dell'ufficializzazione dell'accordo raggiunto con il nuovo coach, Andrea Radici.